E' Christian Seving, 47 anni ed ex vicepresidente dell'istituto, il nuovo amministratore delegato della Deutsche Bank. Prende il posto di John Kryan che lascerà a fine mese. Si tratta del terzo cambio al vertice in sei anni per la maggiore banca tedesca che ha chiuso il 2017 in rosso per il terzo anno consecutivo. La notizia, che arriva dopo che per due settimane si sono rincorse le voci su un possibile avvicennamento ai vertici dell'istituto, ha fatto guadagnare il 2,3% al titolo in borsa. Il nuovo AD, originario della Vesfalia, è un veterano della banca tedesca dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera. Membro del Consiglio di amministrazione dal 2015 è stato responsabile del settore clienti privati ed aziende.